Allora, importanti possibilità per il settore commerciale di avere delle riduzioni degli sconti su tasse comunali? Sì, quest'anno l'amministrazione ha voluto riproporre un bando per le piccole medie prese, per le piccole attività commerciali, industriali e anche il settore terziario, dove in questa delibera prevediamo uno sgravio per quanto riguarda il servizio idrico e l'Atari. Le aziende potranno presentare domande, adesso appena gli uffici avranno predisposto il bando e sarà mia cura comunicare l'uscita del bando e metterla sul sito del comune per poter fare in modo che le aziende possano presentare la domanda e poter usufruire di questo piccolo contributo, un contributo che prevede una riduzione della tale dell'idrico nella misura di 1.500 euro massimo. Questo contributo sarà erogabile nell'anno nuovo immaginiamo? Sì, il bando uscirà nel 2018 e le ditte dovranno presentare domanda nei nostri uffici e più che erogato verrà ridotto dalle bollette che dovranno essere pagate nel 2018 sia di Tari che di idrico. Questa delibera va in un senso ben preciso, quello di stimolare e sostenere il commercio. Sì, questo è uno tra gli interventi che si cerca di fare a sostegno dell'economia che io dico sempre gli investimenti che ha messo in campo anche il comune di Fanno per quanto riguarda investimenti dei lavori pubblici, io sostengo sempre che sono investimenti importanti che smuovono l'economia, che quindi creano lavoro, portano gente, portano imprese qui a lavorare anche se non sono tutte purtroppo del nostro territorio, questo dipende anche dalla legge sugli appalti, però crea economia. E poi questi altri sono piccoli, io chiamo piccoli interventi che però cercano anche qui di stimolare, di sollecitare le attività commerciali, le piccole attività artigianali, quindi quelle piccole e medie imprese che comunque nel nostro paese sia anche a Fanno in particolare, sono il tessuto portante dell'economia del nostro territorio, quindi si cerca in qualsiasi quanto posso di fare interventi anche di questo genere, oltre a quelli dei lavori pubblici che l'amministrazione ha messo in patto, ha messo in campo.